Oltre 700 studenti hanno preso parte questa mattina all'Università di Teramo all'incontro organizzato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt con Lorenza Mazzetti, la regista che ha rivoluzionato il cinema inglese fondando il movimento del free cinema, movimento che affronta il tema del diverso e di chi si trova ai margini della società utilizzando ambientazioni casuali e attori sconosciuti. Dopo la proiezione di ieri pomeriggio al Cinema Smeraldo di Together, film che ha dato il via al free cinema premiato al Festival di Cannes come miglior film d'avanguardia, questa mattina gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere dal vivo la straordinaria regista nonché scrittrice e pittrice dalla vita drammatica e piena di avventure. Lorenza, infatti, adottata con la gemella Paola dalla zia Nina Mazzetti, sposata a Robert Einstein, cugino di Albert, ha raccontato ai ragazzi la sua vita scandita dalla felicità e dalla tragedia nell'infanzia vissuta in Toscana e dalla rinascita attraverso l'arte a Londra. Nel corso dell'incontro è stato proiettato K, il suo primo film, gelosamente custodito dalla regista e restaurato solo nel 2010 dal Cinit Cineforum Italiano. Insieme a lei c'era il regista Edoardo Salerno. Nel pomeriggio poi Mazzetti visiterà il comune di Castelli per sostenere la rinascita del borgo ceramico.